Quanto lo ciò, dottore? Ecco, ci siamo. Allora una cosa veloce perché bisogna far presto perché i tempi scorrono mi ha tirato giù lo studio, è Pasqua 2013. Allora una canzone dedicata di Barucci, cella, maccaricia, canto me e te e pistol to you, e pistol to you, e pistol da Barucci per acchi e pistol to you, a tutti quanti, every party, tutti quanti nello studio